Da oggi alle 14 è possibile prenotarsi per gli over 80 residenti nelle Marche per la prima dose di vaccino anti-Covid-19. La prenotazione può essere effettuata in due modalità, attraverso l'indirizzo web in sovrimpressione oppure per chi non avesse la possibilità di fare domanda online, contattando il numero verde 800-00-9966, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18. Per quanto riguarda la piattaforma, un sito internet governativo realizzato da poste italiane, dopo aver cliccato sul link, appare una prima schermata dove l'utente che intende registrarsi per la prenotazione è invitato ad attendere per non perdere la priorità. Dopodiché è necessario inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale, avviando in questo modo la procedura per prenotarsi. Per la vaccinazione, che partirà il 20 febbraio, non sarà possibile scegliere quando ricevere la dose. Come specificato sul sito di Asur Marche, all'atto della prenotazione, al cittadino verrà indicato il giorno, l'orario e la sede di uno dei 15 punti di vaccinazione collegata al codice di avviamento postale e alla prima disponibilità. Nella provincia pesarese i luoghi scelti per la somministrazione sono il Codma di Fano, il Centro Sociale Monaldi a Pesaro e il Palacarneroli di Urbino, individuato un punto di vaccinazione anche al Palazzetto dello Sport di Senigallia. Il sistema non consente lo spostamento di appuntamenti, ma solo l'annullamento da parte del cittadino, pertanto dovrà essere effettuata una nuova prenotazione tramite il link o il numero indicati. Il sito dell'Asur poi allega alla pagina dedicata al piano vaccinale per gli over 80 alcuni moduli, la nota informativa, la scheda anamnestica, il modulo di consenso e trattamento dati. È consigliato portare con sé questi moduli già compilati per chi ne ha la possibilità, mentre per chi non può scaricarli e stamparli potrà trovare la modulistica nei punti di vaccinazione, dove ogni utente potrà compilarli direttamente sul posto. Per coloro che non sono in grado di deambulare o che non possono essere accompagnati, il vaccino anti-covid sarà somministrato a domicilio e le prenotazioni in questo caso saranno aperte a partire dal 20 febbraio. Per quanto riguarda il richiamo, non sarà necessario prenotarsi nuovamente. Gli operatori sanitari provvederanno, una volta effettuata la profilassi, in uno dei punti di vaccinazione, a comunicare all'utente il giorno della somministrazione della seconda dose. Nessun coinvolgimento nel piano vaccinale per gli over 80 della Regione Marche dei medici di base in quanto si attendeva la sottoscrizione di un patto a livello nazionale non concretizzato.